Punto 8, unità 10.8 Unità 10.8 Parliamo che ciò che ci dimenticiamo, finalmente un gioco Finalmente un gioco Ora siamo in un momento per il Dimas e vi faccio la prima sposta Io vediamo che il compito in Italia sarà Prosciutto In verticale Chi ti dimentica in orizzontale In diagonale In diagonale In diagonale In qualunque direzione In qualunque direzione In qualunque direzione Dall'alto in basso Dall'alto in basso Dal basso in alto Dal basso in alto Da sinistra a destra Da sinistra a sinistra Da destra a sinistra Da destra a sinistra Va bene, c'è che i bandi Allora, prosciutto è dall'alto in basso Per vidri Nel centro No, nel centro In mezzo Bene Allora, che stanno saranno Juviz Avete trattato Juviz Juviz Uova in diagonale L'uovo Bet le uova Nel'alto in basso Nel'alto in basso Giucijines L'orica Nel'alto in ankisi Nel'alto Nel'alto in concret Svegano.. O, leolò. Galiu per chiedere, ma non sapevole, ma in solile riuntere a ha una ragione con il rei. Nelle nuove già nuova, vicino a con il crema perché alla serie mi ha una ragione a, quindi per esempio, adesso appoggiai attenzione studentià redi studentià non è studente no non è studente studentià lapià lapià lapis non è lapis lape ok ora ci sono ancora il nostro canale riepione il giudice caimina vi riepione vieni a lungo all'inizio non ci dovremo aritano c'è il caimina va c'è il caimina c'è il caimínio turisco qui nel parezzo e il ravissime qu'è una forma forma gal va bene, è super applausita ti com'i buo klausimas? teo, va, è išaiškino kodėl uova motriška bene, uova baklažane baklažane ira melanzane teip, che saque io, a reto io su pavarde lansa me, lansa ne, melanzane be, melanzane motriška, le melanzane, u letuški virška česnakas, arradot česnakas? aloe česnakas ira aglio in verticale, l'ultima kolonna aglio oras? aglio molto bene arradot medus miele te, medus itališ ira miele miele miele, kip sa che io usavo voi qui miele miele gamina latte 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 visite, che ti dicono latte gamina medus teip, nes latte itališ ira? bite bite miele ira? medus medus koditas medus? miele prima stupendo no, no, no prima kolonna dall'alto in basso miele 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 si, ma si che erano gampe višiutiname kreirame campes campes angolo višiutinis in in alto kreiria? a sinistra a sinistra dall'angolo in alto a sinistra dall'angolo l'alto sinistra No, no, ci stavate. Dall'angolo in alto a sinistra. Dall'angolo in alto a sinistra. Va bene, dall'alto in basso. Si è stas? Burro. Dov'è? Terza colonna. Terza colonna. Dal basso in alto. Burro. Si è stas? Burro. Burro. Sì, in spagnolo scrivo burro. Asilas. Vistiene? 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 Pollo. 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 Cipolla. Cipolla. Dov'è cipolla? Dov'è cipolla? In basso. In basso. In basso. L'ultima fila. In basso. Da destra a sinistra. Da destra a sinistra. Cipolla. Cipolla. Salamis. 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 Bacon. Era salame. Era bacon? Ah, era bacon. No, no, no. Salamis era salame. Dov'è salame? Antra sul penis no galo. Seconda colonna no galo. Seconda colonna no galo. Arbat no decines. Da destra. Da destra no apacuos. Dal basso in alto. Salame. Salame. Salami non esceva il problema. Salami. Falta salamis. Ovvero? Salami. Salami. Un salami. Salami. Salamis? Salamis. Formaggio. Formaggio. Formaggio... la seconda colonna da sinistra dal basso dal basso in alto formaggio formaggio il formaggio è sul riso e ora vi faccio la pasta e vi faccio la pasta sei pronto? si allora buon appetito buon appetito orecchia azzachiti grazie altrettanto 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 riesca aiut tre pat altrettanto riesca a tre pat e finito grazie 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 grazie